Corriere di Novara e Codidiella diretta dal Dottor Ortenzi e la Direzione di Investigativa Antimafia diretta dal Dottor Molino perché nella prima fase dell'indagine hanno lavorato sinergicamente e questo qua è molto molto bello. Lo dico proprio io che sono stato per sei anni alla DIA di Reggio Calabria quando la DIA venne fondata nel 1992. E quindi è un poco, vorrei dire, un déjà vu per quanto mi riguarda. E ringrazio quindi la presenza dei colleghi della DIA che sono qui a testimoniare che il Ministero dell'Interno, nella sua interezza, è presente. Gli metti il primo. Grazie. 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 Grazie.